11 minuti, più che sufficienti per compiere un omicidio nel giardino di Palazzo Tè. Una donna l'ha raggiunta, vicino alle vasche. 11 minuti. Cosa hai fatto in quegli 11 minuti? 11 minuti di buco nero. Di... vuoto. Angelica Petroni aveva 17 anni. Tutto finito. Diceva che eravamo dei bugiati. Voleva trovare i suoi veri genitori. Dove l'avete adottata? Qui, a Mantua, a Santa Caterina. Non ho già deciso. Sono il mostro, questa è la verità. No, Linda, la verità non esiste. È quella cosa finta che viene costruita in aula. Ma sai perché ho scelto lei? Perché questo processo è l'occasione della sua vita. Si può gire secondo la legge o secondo giustizia. Comunque è stata linda, eh? Col candelabro in giardino. Angelica aveva un cuore grande, un cuore ancora ingene. La vittima aveva una vita piena di segreti e potrebbe essere qualcun altro ad averla uccisa. Io non so che cos'è che ti muove, ma se vuoi vincere lo sai anche tu che siamo debole. Avresti fatto lo stesso al mio posto. Il processo è chiuso, Elena. Non per me.